Tante opportunità gratuite e di libero accesso per tutti i nuclei familiari che vorranno far parte del progetto Il Centro per Famiglie, un luogo dove comuni, università, enti e associazioni costruiscono insieme progetti per rafforzare il saper fare e il saper essere famiglia attraverso l'incontro. Abbiamo presentato un progetto per fare, appunto su questa struttura nostra comunale, il centro famiglie. Tutti parliamo della famiglia come momento di sintesi, tutto lo sviluppo della persona, della socialità, eccetera, con un ruolo fondamentale in particolare in questo momento di difficoltà sociali e di crisi. Noi abbiamo inteso fare qualcosa che vada in conto alle necessità concrete della famiglia, cioè accompagnare la creazione della famiglia delle giovani coppie, assistere queste giovani coppie in un percorso di genitorialità per crescere i figli, eccetera, qui hanno dato in conto ad esigenze concrete per le nostre famiglie, per le famiglie di immigrati, per tutta la comunità. Quindi un insieme di sinergie, come noi abbiamo sempre inteso gestire appunto i servizi sociali. In momenti di crisi non ci si può arrendere alle scarsità di risorse, bisogna mettere in campo tutte le energie. E abbiamo avuto una risposta appunto eccezionale, come vedete, dalle tante associazioni che si sono messe a disposizione e collaborano con noi in questo progetto. Tante le attività in programma a carattere psicologico e culturale, ideato per garantire quel benessere e serenità alle famiglie e ai suoi membri. Ce n'è uno che io chiamo psicosociale, che sarà uno sportello, sono diversi tipi di sportello, per gli adolescenti, per la coppia, per la coppia in crisi. Si può accedere semplicemente venendo negli orari che sono sul Deplian. Poi c'è una parte che è più didattica, diciamo, di aiuto ai bambini a imparare a fare compiti, di aiuto alle persone di recente immigrazione a poter comprendere l'italiano. C'è poi tutta una parte di attività di gruppo, che sono soprattutto sulla genitorialità, sulle emozioni dei genitori, sui genitori, i neogenitori, così che questi si viene negli orari in cui le associazioni sono a disposizione, prenderanno le iscrizioni, scriveranno.